buonasera a tutti e anche buon anno visto che l'hanno cominciato da poco sono carlo pelagalli il tema di questa di questo incontro diciamo sono le dug questo è un orribile acronimo che prometto di non pronunciare mai più e che significa denominazioni urbanistiche generiche di che cosa si tratta quando noi parliamo premetto parliamo delle denominazioni urbanistiche generiche tema della serata in uso nel passato non quelle di oggi e stavo dicendo per capire di che cosa si tratta se noi pensiamo un indirizzo per esempio via ugo bassi ugo bassi è il certamente il nome di un personaggio storico bolognese però è la parte propria delle dell'odonimo diciamo cosiddetta la buona il nome proprio della via e via che c'è davanti perché noi diciamo via ugo bassi non diciamo ugo bassi basta via è la denominazione urbanistica generica così come piazza renzo piazza denominazione urbanistica generica vicolo san damiano vicolo è la denominazione urbanistica generica e così via le denominazioni urbanistiche generiche prima del del 1878 a bologna erano diverse vuole dire c'era un elenco di denominazioni urbanistiche generiche piuttosto differente da quella attuale quelli erano gli anni in cui fu riformata la toponomastica cittadina diciamo seguendo dei criteri legati alla unificazione dell'italia che è stato un processo lungo e che ha avuto i suoi risvolti anche nelle nelle segnazioni dei nomi le vie per cui è di quel periodo quindi dopo l'unità d'italia che nascono le piazze cavur addirittura piazza cavur è nato primi il nome subito dopo la morte del cavur nel 61 e sei anni dopo è nata la piazza demolendo un paio di isolati che occupavano l'attuale spazio della piazza le vie garibaldi la via giuseppe massini così via anzi via massini perché nella delibera il giuseppe non c'è mai stato via massini basta le denominazioni urbanistiche che c'erano prima erano ricordo addirittura del medioevo teniamo presente che la riforma toponomastica precedente a quella che si è concluso nel 1878 fu dovuta al governo napoleonico risale il 1801 ed è la vera e propria come si dice nascita dell'odonomastica ufficiale nel senso che allora che vennero messe le targhe stradali ai capi delle vie quindi fu fatto un processo di identificazioni di nomi unici per le vie poi di vennero a soldati dei lapicidi che scolpissero queste lapidi in macinio murate ai capi delle vie qualcuna di questi oggi è tuttora visibile una è la lapide di borgo salamo nei pressi del bar zonarini quando zone colorate permettendo uno può andare in centro a vederla la riforma del periodo napoleonico fu rispettosa delle denominazioni urbanistiche generiche che venivano che erano già in uso fu decisamente rispettosa per cui viceversa per cui diciamo mantenne tante delle denominazioni che tra poco andremo a vedere viceversa nel 1878 negli anni precedenti al 1878 il 1878 è stato l'anno del parto nel fu si pensò di semplificare le denominazioni urbanistiche generiche di bologna riducendole possibilmente a via vicolo piazza vabbè poi si è dovuto fare subito un'eccezione perché come si fa standardizzare la corte galussi cosa diventa via galussi no non è una via piazza galussi non è neanche la piazza ora la corte dei galussi poi sono nati larghi poi sono nati viali poi poi alla fine arrivare oggi la versione semplificata delle denominazioni urbanistiche generiche di bologna attuali in vigore attualmente è di ben 22 denominazioni urbanistiche generiche tra cui si conta anche un passaggio una rampa tangenziale alla canta accanto al più comune si fa per dire rampa quindi semplificazione non è stato è stato però un cambio dovuto anche al fatto che a parte le esigenze di diciamo di unificare standardizzare a quello che poteva anche essere il resto d'italia però è anche un segno del fatto che alcune denominazioni urbanistiche generiche che venivano usate precedentemente a bologna non avevano più significato la prima di queste andando in ordine alfabetico ma anche la prima di queste che ha cominciato ad avere poco significato è la denominazione urbanistica generica androna quando noi diciamo oggi androna bologna tendiamo a non capire più ci siamo dimenticati il suo originale significato pensiamo all'androne con la e finale come parte del tipicamente dell'ingresso di un'abitazione l'androne delle scale pensiamo a qualcosa di questo genere viceversa nel medioevo termine documentato da un'infinità di rogiti dove le androne venivano indicate come parti confinanti delle abitazioni androna soprattutto a bologna aveva il significato di latrina a cielo aperto le androne sono documentate nei rogiti fin dal dal pieno medioevo sono documentate negli estimi del estimi quelli fatti nel 1296-97 il liber terminorum del che identificava i confini di piazza maggiore della fine del 200 indica anche la posizione di un'androna dove oggi è la chiesa di san petronio insomma in quel periodo androna era un termine molto usato e visto il suo significato di latrina a cielo aperto giuseppe guidicini nelle sue cose notabili della città di bologna disse esplicitamente che riferendo citando citando altri che latrona l'androna aveva il significato di via senza fognatura dire che la via senza fognatura vuol dire che in realtà la via era essa stessa una fognatura a cielo aperto le fognature vennero bonificate verso la metà del settecento il marchese carlo salaroli che ci ha lasciato uno splendido libretto sulle vie di bologna uno dei primi trattati di odonomastica cittadina nella parte introduttiva descrive proprio come le le androne furono le androne e le fognature furono bonificate scrive testualmente lui scrissime nel 1743 dice l'avere negli anni scorsi l'eccelso senato fatto a spianare livellare seliciare tutte le strade e vie di questa nostra città levando che cosa alcuni punticelli bocche di chiavi che ed altro che si vede incomoda al transito delle carrozze di carri eccetera eccetera ecco queste bocche di chiavi che d'altro ponticelli ponticelli erano quelli che scavalcavano le androne e le bocche di chiavi che erano quelle che raccoglievano le acque che venivano utilizzate per lavare le androne ne parleremo tra un attimo di questo aspetto premetto anche che non parleremo in maniera diffusa di tutti di tutte le denominazioni urbanistiche generiche ci soffermeremo però su quelle più caratteristiche che richiedono qualche ragionamento in più per essere compreso allora da dove viene la nostra la nostra androna androna innanzitutto dove la troviamo se noi potremmo pensare che androna è una parola di in uso tipicamente a bologna e questo è vero se pensiamo viceversa che la parola androna era in uso solo bologna questo è falso per esempio era in uso a modena ci sono negli statuti di modena del mille mille 1327 si parla di androna sive canaletum quindi androna o canaletta ma nel trentino era era in uso nel friuli trieste soprattutto ma non solo in uso ancora oggi addirittura gli statuti di osimo del 1308 troviamo delle norme sull'utilizzo sul divieto di scaricare direttamente liquami nelle nelle androne pubbliche diciamo così perché poi dopo dopo ci arriviamo a cosa 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 vuol dire questo gli statuti dicono esplicitamente nec etiam in androna aliqua fiat putredo ex qua via pubblica et etiam i vicinali aliquo d'incomodo di fiat ordinamos quod nulli licea tabere versatorium sive cloacam in andronibus comunibus insomma quindi le androne con il significato di scarico di fognatura cielo aperto era in uso anche ad osimo è antica l'origine della 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 parola androna lo è ne parla anche vitruvio e ne parla anche plinio con l'accusativo plurale andronas e quindi andron al singolare androna il singolare andronas al plurale plinio utilizza invece il termine andron e ne parlano come di di spazio passaggio tra due muri di due case non necessariamente di due case però sicuramente di due muri perfetto quindi androna è parola di origine latina il latino andron significa corridoio dico questo perché il famoso ducange il glossario media et infime latinitatis tenta di fare derivare la questa parola dal greco e ducange scrive locus publicus ubi viri in vicem confabulantur ricordando una parte riservata agli uomini le andronceo in contraposizione al gineceo riservata alle donne bene no la parola è di origine latina il joannes de genua nel tredicesimo secolo definiva l'androna come spazio inter duas domus lo spazio fra due fra due case addirittura androna è presente nel catalano dove ha esattamente lo stesso significato c'è di spazio fra due case contigue bene quindi lo spazio fra due case contigue era una necessità tipica del medioevo in cui sia per dare luce agli spazi interni sia per come elemento divisorio fra case venivano create questi questi sprettissimi vicoli che venivano utilizzate anche per lo scolo delle acque quindi diciamo che dal punto di vista di locus publicus come diceva il ducange ubi viri in vicem confabulantur ecco lì c'era da fare pochi chiacchiere in questi vicoli visto che pioveva acque di tutti i colori in tutte le stagioni dell'anno e anche abbastanza maleodoranti nel nello slang bolognese è presente bene il dialetto bolognese si dice i nostri nonni oggi non è più in uso però si diceva pucere come un'androna per dire maleodorante fare cattivo odore e però nello slang dei giovani è rimasta la landra landra che sinonimo di aria pesante fetida quindi di cattivo odore quando uno dice ma c'è una landra vuol dire c'è del cattivo odore ecco l'etimo della landra dei nostri giovani è antichissimo risale sicuramente al medioevo bolognese quindi detto questo aggiungiamo anche che lo scarico questa cosa nota però lo scarico del delle putritudini chiamiamole così veniva tramite spesso gabinetti pensili se uno gira per il centro di bologna è facile vedere qualcuno nel vicolo trevisonda rieperto dal 2017 se uno fa una passeggiata ne vede di questi gabinetti pensili che scaricavano direttamente dal i liquami nel vicolo sottostante ecco va detto che l'approccio a livello di statuti tra per esempio osimo dove si parla delle androne in cui si vieta di scaricare direttamente nelle androne che si formino alcuni eccetera eccetera e il fatto che ci sia un divieto significa anche che questa era pratica comune a a bologna viceversa si regolò fino alla le migliorie della metà del settecento descritto dal salarone si ovviò al problema lavando con le acque derivate prevalentemente dal canale di savena lavando le androne che diciamoli e le acque di risulta del lavaggio venivano poi ricolti da chiavi cotti e reimmesse nel sistema delle acque sotterranee quindi abbiamo capito che le androne bolognesi citate da tantissimi rogiti scomparvero gradualmente durante il diciottesimo secolo tant'è vero che all'epoca nel 1801 fu una delle denominazioni urbanistiche generiche più soppresse dalla riforma napoleonica vale dire di tutte le androne che c'erano ce n'erano veramente tante non so l'androne di san felice piuttosto che l'androne dei bagneroli piuttosto che tante altre l'unica androna rimasta fu quella che si chiamava precedentemente androna della braina di santomaso che divenne via androna ed è un caso piuttosto insolito in cui la denominazione urbanistica generica divenne nome proprio della via quindi da androna di santomaso della braina diventata via androna soppressa poi definitivamente con la riforma che si concluse nel 1878 diventando vicolo bolognetti se non ricordo male ma direi che vicolo bolognetti ecco quindi con questo abbiamo visto androna proseguendo in un alfabetico ci sono c'erano tanti belvederi oggi è rimasto una via belvedere belvedere è un significato ovvio perché vuol dire qualcosa o di bello da vedere o per antifrasi di molto brutto per cui in maniera ironica si dice che è un belvedere ce n'erano tanti c'erano i belvederi di san felice il belvedere di san gervasio che è diventato via san gervasio il belvedere di borgo delle casse che è l'attuale via belvedere belvedere di borgo salamo che è sparito assieme borgo salamo quando hanno fatto piazza cavour che è sparito non assieme borgo salamo borgo salmo è diventato via farini ma è sparito proprio il belvedere di borgo salamo perché del lato di levante di piazza cavour e così via del dell'altra denominazione urbanistica generica bocca bocca di lupo era e bocca di ragno erano i due esempi tuttora vivi all'inizio del 1800 il significato è ovvio non ci stiamo a perdere tempo che quello di imboccatura diciamo solo che a volte si in maniera abbastanza salace si cambiava il termine bocca con quello di culo per cui bocca di ragno è diventato cul di ragno facciamo riferimento un vicoletto che era anche androna quindi vediamo come a volte queste denominazioni si mescolano tra di loro che collegava via farini alla piazza della scimia tengo a precisare scimia con una m sola la seconda m è stata aggiunta a sproposito da tanti ma è aggiunta a sproposito scimia perché lì c'era un'osteria di proprietà della famiglia simi che è dato che poi diventata quindi via del vicolo della simia piazzetta della simia o scimia e poi hanno aggiunto la seconda m per perché la scimmia si sa meglio che di che cosa si tratta bene dopo vediamo viceversa a una denominazione urbanistica generica estremamente diffusa bologna ed ancora viva oggi in alcuni odonimi che è borgo con le varianti borghette borghettino oggi ci sono alcune vie tipo la via del borgo di san pietro piuttosto che via borgolocchi via borgo nuovo via del borghetto che fanno riferimento a queste denominazioni urbanistiche generiche in uso tantissimo fino al 1878 in uso tantissimo vuol dire che non so via borgo san lorenzo si chiamava borgo lorenzo per esempio via marconi prima di essere allargata di diventare via roma si chiamava borgo delle casse così come tantissime altre vie di bologna via del borgo di san pietro si chiamava semplicemente borgo di san pietro via borgo locchi si chiamava borgo locco poi l'hanno chiamata via borgo locchi perché qualcuno pensava che derivasse il nome da una famiglia borgolocchi che abitò in zona ma in realtà come spesso capitò il fenomeno fu esattamente il contrario fu la famiglia a prendere il nome dalla via in cui abitava perché il borgo locco il burgus lucus e nome antichissimo precedente in particolare all'esistenza delle famiglie in zona ecco borgo borghettino borghette eccetera eccetera se oggi noi pensiamo a borgo immaginiamo un abbiamo il significato di centro abitato di piccole dimensioni in realtà borgo deriva dal dal latino dal basso latino burgus che a sua volta è una latinizazione della voce tedesca burg antico germanico burg che ha significato di castello quindi la voce germanica fa riferimento al castello probabilmente viene dal greco dal dalla voce greca di torre quindi dalla voce di castello il significato si trasferì quello di città fortificata per cui abbiamo tantissime città soprattutto del nord europa come edimburgo gotteborg hamburgo san pietroburgo che sono testimonianza del significato di borgo come città fortificata poi le mura sono diventate diciamo nel diciannovesimo secolo sono diventate pressoché inutili e per cui borgo venne utilizzato per identificare qualsiasi centro abitato di media grandezza le nostre vie che si chiamavano borgo però avevano un significato diverso dobbiamo pensare al alla crescita che ha avuto bologna nel tempo dal dalla bononia romana in cui il centro abitato andava a grosso modo dalla torre degli asinelli all'imbocco di via san felice che la lunghezza del decumano massimo che era l'asse via ugobassi via rizzoli e nella crisi del terzo quarto secolo la città diventò molto più piccola si ridusse a un quadrilatero grosso grande meno della metà della bononia romana arrivava sempre dalle due torri però finiva in via giacomo veneziana giusto per dare un'idea delle dimensioni delle città molto più piccola della città romana si racchiuse da una cerchia di mura non si sa bene quando ma si presume in quel periodo lì tra il quarto e il sesto secolo dopo cristo la mura delle quattro croce di selenite e rimase racchiuse in questo piccolo spazio fino alla ripresa ripresa che divenne tumultuosa nel dodicesimo secolo quando la città che era già cresciuta al di fuori della mura però delle mura di selenite però nasceva la necessità di racchiudere la parte cresciuta dentro una nuova cerchia di mura per proteggerla da nuovi pericoli che non erano più i barbari o l'invisione dell'invasione dei goti e dei secoli precedenti e ma era era l'imperatore federico prima federico secondo dopo e per cui venne allargata viene costruita una cerchi di mura più larga che la cosiddetta cerchi di mura del mille che del mille non è ma è nel dodicesimo secolo con cui la città diventò più grande alcune porte torresotto di porta nuova quello di porta castiglione all'altezza di via castellata quella di porta san vitale all'altezza di piazza al trovandi e quella di via piella all'altezza di via bertiera sono porte di questa seconda cerchia murata la seconda cerchia murata nacque troppo piccola perché non fu finita che già la città stava crescendo al di fuori della seconda cerchia murata che si cominciò a costruire quindi la terza cerchia ecco molte delle vie soprattutto sugli assi principali del tra la seconda e la terza cerchia murata si chiamavano borghi addirittura nelle vie principali quelle che venivano chiamate strade maestra quindi quelli che portavano le porte della città come potrebbe essere via san felice si tendeva a distinguere una via san felice da un borgo di via san felice che era la parte di via esterna la seconda cerchia di mura e fino alla porta della città così c'era una via di galliera e un borgo della via di galliera che andava dalla porta della seconda della seconda cerchia alla porta di porta galliera attuale e così via ma anche tante altre vie che crebbero tra la seconda e la terza cerchia di mura si chiamarono borghi quindi l'unica eccezione è via borgo nuovo che però che si trova tra la prima e la seconda cerchia e che però probabilmente non ha altro che lo stesso significato degli altri borghi cioè identifica una via di accrescimento urbano anziché essere tra la seconda e la terza cerchia era tra la prima e la seconda quindi il borgo identifica una zona di urbanizzazione dovuta all'espansione della città le sue varianti borghetti borghettino non fanno altro che identificare caratteristiche del borgo quando il borgo era non tanto grande diventava borghettino quindi c'era il borghetto di San Francesco che era un piccolo borgo e poi una via molto più piccola e più stretta che girava attorno al convento oggi carcere minoriere del Pratello che era il convento, uno dei conventi soppressi durante il periodo napoleonico quello era il borghettino di San Francesco andando avanti sempre in ordine alfabetico troviamo un'altra parola interessantissima dal punto di vista bolognese che è la braina braina viene utilizzato negli atti bolognesi come sinonimo di braida c'è un passo dell'archivio di Santo Stefano che in un paragrafo in cui viene usato più volte indistintamente la parola braina e la parola braida identificando la stessa cosa braida è termine molto diffuso in tutta Italia viene dal tedesco Breit e dal significato di spazio aperto il più importante esempio di odonimo di questa derivazione dal germanico Breit è la famosa piazza Bra di Verona che non vuole altro che dire che è piazza grande quindi le nostre braine identificavano spazi aperti c'è rimasto un'unica via a Bologna che è via della Braina che ricorda le braine utilizzate in passato ma c'era la via della Braina di Fiacalcollo c'era la braina di Strada San Donato via scomparsa con il piano regolatore del 1889 il borgo di San Marino uno dei borghi era chiamato anche borgo di Braina di Mascarella il borgo di San Marino anche questo scomparsa col piano regolatore del 1889 un accenno ai vari brogli che c'erano a Bologna in Bologna c'erano alcuni brogli che identificavano dei vicoli nella parte più centrale di Bologna il broglio degli asinelli sotto all'eduttore il broglio dei piatesi davanti al cattedrale dove oggi c'è via dei piatesi il broglio dei Mussolini dove oggi c'è via broglio però poi pare che in realtà il vero broglio dei Mussolini fosse nei pressi di piazza al Rovandi di fatto sta che tutti questi brogli sono caratterizzati dall'essere vicoli, piccoli, stretti e dall'andamento abbastanza contorto in tutta Italia è diffuso la parola brolo, broletto con il significato di orto che deriva a sua volta dall'usanza che si aveva di delimitare i confini dell'orto con delle siepi fatte di solito di piante intricate piante possibilmente spinose e intricate tra di loro bene questi confini di piante intricate ha poi dato luogo al significato di imbroglio per dire di cosa poco chiara di pose contorte, intricata da anche un aspetto abbastanza negativo alla parola ecco io credo che nel caso dei nostri brogli sia il significato di intricato, contorto a prevalere su quello di orto pensare a degli orti sotto le due torri che era donna densamente edificata diciamo mi sembra poco credibile campo campetto che erano in uso precedente in antichità a Bologna hanno il significato chiaro di capo anche questo capo simile a Bocca capo di Lucca che veniva chiamato vi ricordate che prima che Bocca di Ragno veniva chiamato anche Cull di Ragno nella famosa pianta di Agostino Miteli del 1692 postuma perché Agostino Miteli morì 40 anni prima padre di Giuseppe Maria famoso incisore via capo di Lucca indicato come Cull di Lucca per dire come a volte capo culo che vengono utilizzati in maniera divertente come sinonimo uno dell'altro ecco di corte è abbastanza evidente il significato di corte per cui non sto a spendere parole l'unica cosa è che l'unico passaggio pubblico che aveva il nome di corte nel 1801 era la corte Galuzzi corte in precedenza di corte ce ne erano tante tra cui la corte dei Bulgari famosa per essere poi per aver ospitato anche il bordello il bordello cittadino piuttosto che la corte di Sant'Ambrogio dove era la prima sede del comune di Bologna verosimilmente tra via dei Pignatari e la chiesa di San Petronio nello spazio occupato dalla chiesa di San Petronio ecco la cosa curiosa di corte è che ce n'era una sola nel 1801 è rimasta con la riforma toponomastica del 1878 che ha massacrato tantissimi odonimi interessanti ha anche ricordi storici ma in nome dell'unità d'Italia si è fatto questo ed altro curiosamente è anche l'unica denominazione urbanistica generica che è antica che è cresciuta perché oggi di corte ne abbiamo due abbiamo la corte Galuzzi e la corte Isolani che non è mai esistita cioè non c'è mai stato nessuno spazio pubblico nella storia che si chiamava corte Isolani però visto che è diventato spazio pubblico si è pensato bene di chiamarla così del guasto tutti sanno tutto perché il guasto erano le zone dove il residuo dello spianamento delle case delle famiglie che si erano macchiate di qualche nefandezza di tipo politico il più noto è il guasto di Mentivoglio su cui poi è stato costruito il palazzo comunale e che ha dato luogo alla via del guasto e il giardino del guasto che c'è lì dietro però c'erano tanti altri guasti il guasto dei ghisiglieri degli andalò dei beccadelli dei buratti dei marescotti insomma dei canetoli insomma tutti quelli che furono spulsi da Bologna che per ignominia gli furono demolite le case lo spiazzo lasciato dalle case demolite fu chiamato guasto ci sono anche degli odonimi che fanno riferimento a Paglia e Paglietta che dire Paglia e Paglietta oggi c'è una via della Paglia una via Paglietta una via Paglia Corta in passato ce n'erano di più c'era anche il borgo della Paglia che era l'attuale via delle belle arti ma tra origine era il fatto che la Paglia così come oggi in tantissime città di Bologna c'è una via del gasometro perché? perché ci hanno fatto il deposito del gas e l'hanno chiamata via del gasometro e una volta il carburante più comune era la Paglia da nutrire i cavalli che erano il mezzo di locomozione più comune quindi dove dove c'erano questi depositi prevalentemente questi depositi di Paglia sono nate le vie Paglia Paglietta Paglia Corte e così via così come c'erano anche delle vie stallatici però scomparse anche queste col piano regolatore del 1889 stallatici va da sé che cosa che significato avesse Piazzolo Piazzetta sono termini rientrati in uso Piazzetta in uso recente Piazzolo curiosamente pur avendo noi il mercato della Piazzola a Bologna non è ricordato da nessun toponimo ufficiale sarebbe peccato che non lo sia sarebbe cosa buona farla ecco per chiudere parliamo delle pugliole per chiudere perché è già arrivato tempo ma non posso chiudere senza parlare delle pugliole prima però mi tengo le pugliole per l'ultimo un accenno alla ruga in antichità c'era la ruga degli speciali che era uno dei viorefici uno del un tratto di viorefici veniva chiamato ruga degli speciali ruga è un termine che in uso anche in altre città qual è il suo significato ma esattamente quello che ha cioè quello di solco di piega pensiamo una ruga della pelle e una piega della pelle il solco della ragpro è una ruga quindi dal significato di solco a quello di strada il passo è immediato va solo detto che ruga esiste in tutte le quasi tutte le città di Bologna ma anche tutte le lingue pensiamo allo spagnolo rua o il francese rue non sono altro che le nostre rughe le nostre pieghe su cui si passava con le ruote perché questa era la loro funzione ecco Trebbo Seliciata Seliciata ce n'erano due Seliciate che erano Seliciate di Sprada Maggiore oggi Piazza Aldrovandi e Seliciata di San Francesco oggi Piazza Malpighi chiamate così perché erano zone dei fossati della seconda cerchia Selciate cioè riempite Selciate quindi delle piazze ricavate dal riempimento di questi fossati il Trebbo dal latino Trivium incrocio di almeno tre vie per cui c'era il Trebbo dei Carbonesi uno dei più famosi piuttosto che il Trebbo dei Mercanti che è l'oderno piazza della mercanzia ecco dicevo delle pugliole con cui chiudiamo questa chiacchierata ah beh lo chiudo con un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso ma mi ricorderò di dirlo alla fine che riguarda le denominazioni urbanistiche generiche in uso oggi a Bologna e in Italia pugliole usato sia il singolare sia il plurale termini antichissimo citato dagli estimi del XIII secolo dove si parla per esempio di una strata pugliole che è l'odiana via del porto ma anche prima all'inizio del XIII secolo quindi all'inizio del 200 quando fu costruita la chiesa di San Francesco la chiesa di Santa Francesco fu costruita vicino alla chiesa di Santa Maria delle Pugliole quindi era termine che veniva già utilizzato su pugliole Giuseppe Guidicini non si espose formulando una derivazione della parola però si limitò a dire che le pugliole indicavano luoghi campestre perché lui lo disse da osservatore perché vedeva che le pugliole erano prevalentemente nella zona tra la seconda e la terza cerchi di mura non edificate per cui c'erano le pugliole di Sant'Elina vicino al convento di Sant'Elina le pugliole di Santa Margherita vicino al convento di Santa Margherita però diciamo quale fosse la derivazione di Pugliola non disse nulla degli scrittori antichi Adriano Banchieri che personaggio bisognerebbe scrivere un libro solo sugli autori che hanno scritto sulle vie di Bologna cominciando da Giovanni Santi che nel Cinquecento scriveva il primo trattato sulla storia di nomi delle vie a questo Adriano Banchieri che scriveva all'inizio del Seicento che era toscano coltissimo intelligentissimo musicista abate come come tanti uomini colti di quel periodo la carriera ecclesiastica equivaleva era accompagnata spesso da una carriera culturale spesso anche tecnico-scientifica ecco questo toscano ha scritto dei libri in dialetto bolognese è scritto un trattato sul dialetto bolognese persona fantastica e il nostro toscano Adriano Banchieri fece derivare le pugliole da plebaiol che è quindi legato alla gente di bassa lega ipotesi divertenti ma sicuramente fasulla nel senso che non come tante delle derivazioni etimologiche del banchieri erano più esercizi di diciamo di letteratura divertente che altro bisogna arrivare al ventesimo secolo al contributo onomastico di Carlo Bogaro che è scritto sulle pagine dell'archiginasi di Bologna negli anni trenta per diciamo per avvicinare il termine pugliola al latino pullus pulleolus con il significato di virgulto quindi si potrebbe pensare virgulto quindi zona in cui cresce vegetazione bene due punti però questo pensare quindi alle zone aperte dalle seconde e terze cerchi di mura funziona abbastanza bene per diverse delle pugliole esistenti funziona meno bene per un gruppo di pugliole che era concentrato nella zona dove c'è l'archivio di stato il vicolo santo spirito era l'insieme delle pugliole di santo spirito e delle pugliole dei celestini per cui pensare a zona aperta lì no perché era densamente popolata siamo addirittura all'interno delle mura di Selenite quindi la zona più popolata della prima città medievale di Bologna non poteva essere allora forse bisogna pensare a qualcosa d'altro non proprio esattamente a campo ma consultando il Ducange col suo Glossarium Mediate Infime Latinitatis eccetera eccetera si trova si trova Puglia con alcune varianti con il significato di come scrive il Ducange perché il Ducange scriveva in latino quindi dava le spiegazioni in latino Seminarium ovvero Orto che è qualcosa di più contenuto del campo Prato ipotisato da altri e che dà però un'interpretazione abbastanza chiara perché se noi andiamo a vedere tutte le Pugliole che sono esistite le troviamo con dei nomi interessanti perché troviamo le Pugliole di Sant'Arcangelo Pugliole dei Celestini Pugliole di Sant'Elena Pugliole di Santa Margherita Pugliole di San Bernardino guarda caso saranno coincidenze ma io non ci credo le Pugliole sempre associate al nome di un convento quindi dato che i conventi erano caratterizzati dalle mura conventuali dentro le mura conventuali c'era tutto cioè c'erano le viti per fare il vino perché ogni convento che si rispetti il vino è necessario c'erano le bestie che producevano materie prime alimentari c'erano gli orti per produrre ortaggi e poi c'erano anche delle enormi porte enormi per l'epoca che erano chiamate le porte delle carre da cui entravano uscivano i carichi frutto spesso delle lemosine perché era un sistema economico quello dei conventi teniamo a presente che metà della superficie di Bologna quasi un po' meno della metà era occupata da conventi religiosi poi soppressi quasi tutti nei primi anni della dominazione francese della Repubblica Cisalpina ecco quindi le nostre pugliole cominciano ad avere un significato forse più proprio legato a quello di orto ecco ho detto che avrei finito parlando delle denominazioni urbanistiche generiche vi ricordate che vi ho detto che tutto nacque da un tentativo di standardizzare quindi via vicolo piazza come possibili uniche denominazioni urbanistiche generiche poi abbiamo visto che in realtà queste denominazioni urbanistiche generiche sono cresciute perché oggi oltre a via vicolo si utilizza viale piazzetta nata da poco è stato rientrodotto piazzetta Bologna largo corte non è mai esistito al subito ma ci sono anche i giardini la galleria galleria dei notari galleria gubassi galleria del Reno mura mura di porta d'aseglia che ci sarebbe da scrivere piuttosto che la mura mura anteo zamboni ci sarebbe da scrivere dei libri solo sulla mura anteo zamboni per dire mura di anteo zamboni che si chiamava mura di porta sandonato che alla fine di via di via zamboni ma zamboni luigi non anteo vabbè lasciamo perdere il tempo è tiranno rampa esiste anche una rampa tangenziale come denominazione urbanistica generica viva oggi voltone strada strada maggiore sono 22 le denominazioni urbanistiche generiche esistenti oggi a Bologna alla faccia della semplificazione il che era il non è una critica la mia era solo una critica all'intento di semplificare ma in Italia funziona tutto così quando si vuole semplificare per una ragione che dipende evidentemente dal dal nostro modo di pensare alla fine si complica per cui da tre denominazioni urbanistiche generiche che era il target si è arrivati ai 22 problema di Bologna no in Italia ci sono ad oggi oltre 320 denominazioni urbanistiche generiche diverse calcolate le caratteristiche di ogni città d'Italia a Venezia ci sono le Calli per esempio e mi fermo qua a Genova ci sono i Carrugi se noi li contiamo tutti facciamo 320 che è un bel numero non non ripeto più quella cronima orribile che ho detto all'inizio comunque questo era il tema delle denominazioni urbanistiche generiche in uso in passata Bologna con questo vi ringrazio dell'attenzione e anche della pazienza per avermi sopportato fino alle 9 meno 10 grazie e buon proseguimento che per un 2021 che speriamo che cominciato cupo speriamo che finisca viceversa in maniera decisamente più serena buona serata a tutti